Buongiorno ciclisti! Allora, siamo a Ilgoccioli, ultimi giorni dell'anno, ultime salite, ultimi allenamenti. Domenica ho incontrato tantissimi pedalatori cavallette. Sono usciti dopo la pioggia come le lumache, urlanti e festanti, in gruppi sgraziati e pericolosi per la circolazione stradale. Che dirvi? Vogliono essere contagiati, lo facessero. Che dobbiamo fare? Li abbiamo avvisati, tutti li hanno avvisati, ma loro continuano a uscire in gruppo, non curanti di tutto il resto. Vabbè, sta bene a loro, sta bene a tutti. Poi se ne ricorderanno. Stamattina pedalatina anche in salita. E che dirvi? Vi saluto e alla prossima. Ciao!